Il presidente è in tribuna e la Fiorentina vince anche quest'oggi il derby, quindi insomma ecco c'è contentezza per questo risultato. Sì c'è molta gioia, molta soddisfazione, in verità le ho seguite tutte le partite in casa, anche una fuori casa a Siena. Oggi è stata una bella partita, intanto è stata una giornata di sport da incorniciare, c'è stato un tifo molto bello da entrambe le parti, però c'è stata molta correttezza in campo e sulle tribune. Quindi è sicuramente una bella giornata di sport per la città di Firenze, questa è la prima cosa che tengo a sottolineare. Poi la partita, voi sapete, quasi mai entrano negli aspetti tecnici, però una valutazione ha avuto due volte, diciamo, no? Tutta la prima fase noi abbiamo sofferto, il Pino ha fatto una buona prestazione, poi noi siamo rientrati nel terzo tempo con il piglio quello giusto, con la determinazione quella giusta e abbiamo ribaltato il risultato. Ecco, un'altra vittoria che ormai avvicina completamente ai play-off e comunque è possibile ancora arrivare tra le prime 3, 4, 5 posizioni. C'è soddisfazione anche per questo risultato che va a essere qua di raggiunto? Sì, noi quest'anno annunciamo l'obiettivo a Palazzo Vecchio, a inizio stagione, quello di poter centrare i play-off. L'obiettivo è vicino, adesso non conosco i risultati delle altre squadre, ma insomma non credo ci sia ancora la certezza matematica. Quindi dobbiamo essere concentrati fino alla fine, all'interno dei play-off vediamo di raggiungere comunque una posizione in classifica prestigiosa. Poi vedremo come vanno i play-off e avremo tempo di parlare eventualmente della prossima stagione. Sta già riflettendo su eventuali conferme, sta già riflettendo su un eventuale 2017-2018 per questa Whole Foods Fiorentina? Ma è prematuro, è prematuro. Dobbiamo raggiungere i play-off e dobbiamo disputarli bene. Le condizioni ci sono, c'è una regola generale, squadra che vince non si cambia. Quindi poter concludere questo campionato con un risultato soddisfacente ovviamente significherebbe fare la prossima stagione partendo da ciò che di buono è stato fatto quest'anno e se dovessimo chiudere il campionato come auspichiamo di buono quest'anno ne avremmo costruito molto.